Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio supermedia di tutti le rilevazioni statistiche dell'ultima settimana. Fratelli d'Italia è al 29,3%, cresce dello 0,4%. Il PD sale al 20,7%. Quindi sondaggio AGU Trend, mentre poi troviamo che il Movimento 5 Stelle è al 15,9%, perde lo 0,2%. La Lega cala dello 0,1% ed è al 9%, Forza Italia scende dello 0,1% ed è al 6,8%. Mentre Italia Viva al 4,3% è azione, al 3% Italia Viva, Verdi sinistra italiana 2,9%, Più Europa 2,1%, perdono lo 0,1%, Italia Exit invariato al 2,1%, Unione Popolare guadagna lo 0,2% all'1,5%, Noi moderati di centrodestra 1%, grazie a tutti e arrivederci a presto.